Grazie a tutti. Il gruppo è allietato dalle bellissime esibizioni di danza del gruppo della Scuola Espressione Danza di Rossella Giaimo, con sede a Torchiara, sullo sfondo del bellissimo tramonto sul Golfo di Salerno. Dopo la sfilata, i partecipanti si sono radunati presso lo spazio adiacente alla chiesa della frazione San Martino, dove un grande falò ha atteso. Il gruppo è allietato, grandi e piccini, con musica ed assaggi per la buffata di carnevale. Alla fine, premiazione delle maschere più belle. Il meccanismo per la scelta delle maschere più belle è stato affidato ai like ricevuti sul profilo social del forum. I vincitori, Sofia, la bellissima domatrice, con Leone incluso, gli omini social, Luca e Mirko ed infine Rosi e Giuppi, Miss e Mister Forum.